bella raga bentornate al canale mi raccomando iscrivetevi lasciate like anche te ricchi che ci segui metti like non mi va internet bene fra non mi va internet bene non mi va la aspetta aspetta non stavo bugando io stai bugando non mi va non mi va aspetta aspetta perché sto 91 iscritti bella raga tra cinque minuti aspettiamo non mi va di una mensa dei ninja veloce fa il giro fa il giro di tutto comunque vi ricordo che a 1200 cioè dono 1200 vbox appena arriviamo 100 iscritti comunque condividete ho fatto il giro grandissimo aspettate raga adesso iniziamo facciamo vedere che siamo bomber sono in live e settiva iscritto ricambi bella fra ecco finisco sta partita che abbiamo iniziato che devo fare anche una cosa poi ricambi bella fra buonasera raga bella raga mi raccomando lasciate like e iscrivetevi che a 100 iscritti doniamo 1200 vbox a una casa di voi pitbull ma salve ma buonasera grande pitbull abbiamo appena iniziato siamo anche da poco su youtube tipo avremo due settimane minchia già 4 live bella raga buonasera no perché non riesco a giocare grandissimi ragazzi grandissimi andiamo a pinnacoli o borgo 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 scena qua scena qua bella gans bella raga mi raccomando iscrivetevi lasciate like condividete il video mi raccomando mi raccomando spammate la live raga ecco l'ho visto qua fra corri 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 mi ha rubato le armi ma quanta vita infinita vai un colpo bravo mamma mia vita infinita arriva l'altro vabbè tanto tanto vieni qua fra calmo 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 3 2 1 vai buono buono ma lascia mille ma 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 munizioni bella fatina ragazzi mi lascia un'arma ce l'hai lì ma ho pochi colpi fran che è da sotto mamma mia ma da dietro ma vaffa eliminato quello che stavo cercando di ammazzare non avevo più materiali ma dai porco due ragazzi no così mi fa incazzare sto gioco pensavo di avere ancora materiali dai no bella ragazzi scrivetevi a 100 iscritti shoppiamo 1200 vbucks mi raccomando spammate spammate in ogni live e a 20 like altri 1200 vbucks bella tiger bella pitbull grandissime ragazzi pietro spammate siamo in live siamo in live pietro spammate veloce mi sono iscritto con un altro canale c'è un altro telefono ok bella ma mi hai preso il telefono tu? devo fare una cosa mi prendo il mio lascio andare lungo a farci ecco è tutta la live bella ragazzi sei like se arriviamo a 20 like 1200 video da quando è che fai la live? da 5 minuti sei like già? si mamma dai cri Enrique dove andiamo? andiamo a boschetto mi raccomando iscrivetevi ragazzi come sempre oggi pomeriggio era una combinazione sei chi la partita facevo grandissime con il mio team mi raccomando andate nelle altre live e scrivete danielita00 in live che se arriviamo a 20 like 1200 vbucks in regalo a uno di quelli che hanno messo like di da se arriviamo a 200 iscritti si una cosa del genere quando va c'è gente? c'è gente o no? si c'è da gente vai andiamo andiamo passiamo qua nel prato c'è una pistoletta prato tieni 1049 grandissimo grandissimo è nato gli ho tolto un sacco mi raccomando non ho materiale non ho materiale ma che merda non ho materiale disse ma che merda la raga è tosta la raga è tosta braccio la tessa vai 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 tu morto bella ragazzi vieni qua vieni qua un materiale non è nemmata una donna santa sclerando guarda che 44 grandissimo tosto tosto raga te ne ho morti no no medici a testa il problema è che non ho più materiali no no ho zero materiali io perché quando ne avevo stavo costruendo un apparato vai fai il medici l'ho già fatto sto spammando in questo è la quinta live che spanna grande dove sono gli altri andiamo a pinnacoli andiamo a pinnacoli raga mi raccomando a 20 like shoppiamo 1200 vbox ma ma aspetta corri dobbiamo killare capisco che sono lento anch'io ma cazzo mi raccomando pitbull iscriviti lascia like e condividi soprattutto condividi no a 20 like 20 like p2 a 20 perché 10 cioè li facciamo in un attimo abbiamo appena trattava la piscina c'è un l'amo qua bella ragazzi ma grazie nardrop anche davanti a noi grandissimo pitbull bella ragazzi abbiamo appena iniziato condividete mi raccomando ea 20 like sappiamo 1200 di box e li doniamo di niente mi raccomando iscriviti manca poco i 100 iscritti c'è un airdrop anche qua ti sarà materiale fra si frasi il pompa lascia frasi minchia fra però dai dai lascia il pompa dai io sto laggando vabbè niente lascia prendo sto verde dai che questa la vinciamo perché ci guarda raga la vinciamo per voi 5 30 27 ragà ma la posso scrivere per una live di fifa ad esempio la posso scrivere per una live di fifa che vuoi scrivere tra quello che hanno detto tu la c'entra la live di forza ma quella di fifa non lo scrivo dai ragazzi pensiamo al gioco Ricci, pensa al gioco. Come? Ah, lui vuole andare in una live di FIFA per dire che... Ah, capito. Eh, che cazzo è il centro a FIFA con forte, nemmeno? Tra il cecchino, almeno il cecchino. Che sai chi è il più bravo, il cecco. Questo lo vuoi. Vai, vai. Ah. Perché scala la? Oh, io, la grande. No, ma non c'è più nessuno, mi so assolutamente. No, no, a Pinnacle c'è gente, mi so. Eccolo. Niente. Niente. Credo, smammato. Fra, li hanno a bussare che mi hanno rotto. Ah, non ho più colpi. E cazzo vado a bussare. Medi, tieni. C'è dentro anche qua fra Qua dentro Sì Ho sentito uno che cambia qua fra Sono la ganda Eccole qua 480 di ping aspetta 900 Il B è da qua fra Mi ammazza Mi ammazza Oltre ad andare a metterlo Non andava a metterlo Non andava a metterlo Spaccando solo una trappola No Raga proprio all'ultimo E' ancora tutto davanti alla faccia 17 like Non ci credo Siamo quasi arrivati a me Te l'ho detto? Ho sparato in tutto il mondo Aspetta che faccio 18 like Dai Non la faccio Giusto per non farti spendere un bug Lo faccio? Sì Ok dai Oh posso giocare? Triangle dai Chi entra entra Aspetta Aspettate Invito un mio amico Aspettate un momento 19 mi piace Vieni al rischio eh Ma fra Sono tutti i tuoi secondi account O no? Ricky Così i miei Eh adesso tu c'hai 19 account No 19 no Ce non sei Tipo Eh allora se i like li togliamo Mi spiace Colpa di Pietro No 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 Scherzo Invece no Oh bella Laura Grandissimo Ragazzi arriviamo per favore A 100 iscritti A 100 iscritti ragazzi Abbiamo appena iniziato da due settimane Continuate così Chi spammi ma ti stimo Grandissima Comunque io non mi spam Sono tutti i miei fan Che io dico di spammare a me Io non mi sto per niente Lo so Sì sì Li sto insegnando male Ma come stai per i miei fan Ma come stai per i miei fan Se c'è il live 94 Sto scherzando 20 mi piace 21 adesso Non ci credo raga Dopo uno di voi riceve 1200 V-Bucks Dai però Ma perché fate Fate sprecare i V-Bucks Non dovete mettere Mi piace Mi raccomando eh Dai Che siamo Abbiamo raggiunto 20 like 21 22 Bella raga Raga Siamo Siamo diventando famosi Rimanete sintonizzati Che una persona Riceverà 1200 V-Bucks Ma cacchio Come la fai trovare Una persona così Ma perché io sono speciale Laura Quindi Sai com'è Spammono Ovunque Oh no raga Sono speciale o no Guardate i video precedenti Se vi piacciono Riki mi serve un'arma Riki Eh non ne ho io Non caccia no raga Un caccia no Chiede a Laura Se c'ha fortnite Sì va bene Sì va bene Facciamo giocare Dai se è forte Sì La facciamo giocare Magari Che potete Ragazzi Concentrate Sono migliorato In due giorni Lo sai Inizia a fare Dieci kill Concentrate No dieci Prima ho fatto Sei kill Prima ho fatto sei kill In una partita Poi in un'altra partita Cinque Cazzo da me Non sappiamo neanche chi ha Avete anche una pistola per me Zitto fra Che non sento i passi Arriva Riki Un'arma per te Un pompa mi serve Sono a posto No che faccio ne uno E basta Avete un'arma Oh iacchie Ma dove vanno Non ci credo raga Otto spettatori Cos'è oggi? Oggi è giovedì Oggi è giornata Per fare l'aria No Laura Non sappiamo neanche chi ha hit Non sappiamo neanche chi ha hit Domani sono tutti rilassati Perché arriva il sabato Diciamo dai Ragazzi Gente qua Raga Cosa di tutto Abbiamo qua Mamma mia Raga Eh va bene R blu però Tenete le pozze Io Io Mamma mia Sono tre La raga Vado Dove sei Daniel Quello fa prenderlo Mamma mia Raga Fermo 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 Grazie Laura Cazzo Veloce Ricky Due secondi Sono tre persone lì fuori Prendi le pozze Veloce 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 Condividete Raga Mamma mia Sì lo sai perché Perché adesso sono molto spettatori Capito Ti dà più Rallegria Mamma mia Vero? Ti rallegrati più Se sono più spettatori Grandissime Raga Grandissime Per il sostegno Mi ha sparato Scusa come fai se sono Adesso avendo mi piace di più Se arrivano a 100 iscritti 2.400 Vobazzi Sì 2.400 Sortego Due volte Aspettate La partita Ragazzi Un po' di attesa Ma 2.400 Sono un giocatore Zitto Per favore Colpa tua Non senti passi Dai Mi raccomando Ragazzi Fammate Grandissime Pitbull Pitbull è un boss Siete grandi Siete grandi Raga Avviva Mi conoscete Stai andando Intanto tu Pietro Fai il giro Ma io ho finito La live Che alzarola Però Devi fare un giro In moto Che io ti aspetto Ti ho portato 8 spettatori Grandissimi Cioè io ho spammato In 15 live Ma bravo Bravo Diamo una medaglia A Pietro Se no Ho gente davanti Corri 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 Ti aspetto qua La pinga Bucciano E' dietro Sta casa Ecco No Sfiorata Fai qua Sono fortissimo Non è che se costruisci In due secondi Vuol dire che sono forti No ma già Non Sto provando A ciocchinare Io Ce n'è anche uno La Oh A terra Non ci credo Raga Una a terra Mi raccomando Sto andando A rianimare Ma che la fai Dov'è? No ma dai Il colpo Mi ha tirato Cazzo Ma cazzo Faci Tanni con un colpo E' impossibile Ma vaffanculo All'ultimo All'ultimo Ma vaffanculo Cazzo Ne avevo tirato Due Ne avevo tirato Porco Due Ragazzi C'è uno Che da C'è uno Che da 5 giorni Che chieda Di essere Moderatore Mamma mia Raga Scusate Sì A due Contro Quattro L'ora Non è forte Non ho capito Che cos'è Il moderatore Però Ok Chi è L'eo Raga E' entrato Leo Nel party Raga Mi raccomando Spammate Che ha 50 like Vi giuro 100 euro 100 euro Per la playstation card Entrate Lasciate like No Sono serio Fra Funcura Però dobbiamo arrivare A quanti like ho detto 40 100 like Vai 100 like 100 euro 1 euro Mi raccomando Iscrivetevi Sempre Raga Sempre 1 euro I like 1 ha scritto Mi fai vedere I tuoi costumi Ah scusa Mi fra Dopo Anzi adesso Aspetta Vedo che ha messo Like Allora Una cosa Raga Ditemi un numero Da 1 a 7 6 Aspetta L'ho chiesto a Ricky Non a te Pietro Ah Ricky 7 Non ci credo Raga Chris Chris riceve i V-box No Non ci credo Raga Il numero 7 È proprio Chris Chris Ci sei Fammi un Can Dai Dai Ci sono No raga Chris Vincitore Chris Tra poco Ti invio Il codice Di 10 euro Ti shop 1200 Sì ma Vabbè Sempre Chris Sempre Chris E Chris Sembra Chris Era Lucio E lui segue La canta Anche Molto Amato Da Danio Infatti Lui segue sempre Le live Cioè Il caso Voleva Io no Io le gioco Solo Le live Però c'è Mi deve anche ringraziare Un po' Il 6 Chi era Il 6 Chi era Ti abbetto io Il 6 Era Lucio Lucio Il 6 Era Lucio Il 5 Era Pitbull È il caso E io Che numero Tu eri il numero Due Mi sembra Vabbè Eri tra i primi Due Non lo so Comunque Chris Dopo ti invio 10 euro Della Playstation Card Sì Mi ha scritto Su Insta Su Insta In privato Sì Tra poco Glielo do Finisco Sta partita Raga Fra Non ho armi Raga Non ho armi Abbiamo perso Perché non ho armi Mamma mia Va a fa' culo Cazzo Va a fa' culo Mi pusciano In due Mi pusciano Cazzo Va a fa' culo Sì Una cazzo Raga Dai però Ma perché Capita sempre A Chris Perché Diciamo Due Di chiamano Mi sono Contestato Già Ho Contestato Stant' euro Prima E' tosta Raga Eh no Danielito Zero Zero Raga Mi raccomando Iscrivete Eh ma Da solo Non posso fare niente Chris mi deve ringraziare a me Che ho detto un bel set Ma vaffanculo Raga Mi ha scritto su Instagram Chris Gli ho inviato il codice Adesso Ma poi mi era Non giocando pure a me Zitto Pietro Se parli ancora Ti spalla della live Allora Chris Fammi un cenno Se ti va il codice Provalo Eh Tre minuti Provalo Se ti va Scusa Come fai ad avere il codice Cioè Dove lo devi mettere Perché avevo Shoppato Le card No E ne avevo due Tre per la live Le tengo io Quella lì Della PS card Sai cos'è No Raga Il vincitore Chris Chris Fammi un cenno Io quant'ero Daniel Fra Tu sei il mio assistente Non ricevi V-Bucks Ma vaffanculo Daniel Adesso Ti faccio arrivare A 40 like Ha detto uno Se arriviamo A 40 like Se arriviamo A 40 like 1.500 V-Bucks Dai Raga Raga Visto Ha fatto cenno Che è tutto vero Grande Chris Grande Chris Visto Io non mento Raga Se arriviamo A 40 like Mi raccomando Se arrivi a 40 like Che regali Regalo Altri 1.200 Però se arriviamo A 100 like 100 euro Raga DPS card Mi raccomando Condividete Condividete Lasciate like E iscrivetevi Soprattutto Che A 100 iscritti Una casa di voi Prenderà 1200 V-Bucks Mamma mia Chris fortunato Ragazzi Accendo iscritti Vuoi vedere che la prossima volta Capirà pure Chris Oh comunque qualche giorno Mi devi imparare Come fare i video Come hanno spiegato Solo che mi ha capito una minchia Zitto Pietro Porco 2 Pietro Devi sempre parlare Siamo a 91 iscritti Grandissimi Grandissimi 100 iscritti Veramente Veramente No Devi sganciare i sordi Sì Fra Sì Ho altre Due PS card Uno se arriviamo 40 like Altri 1.200 E la prossima Nel 500 A 100 A 100 Persona iscritti Sì 100 like Ha scritto Valentino Stai zitto Io ho detto Stai zitto Valentino Salute Ok Bella vale Bella vale Dai raga Dai raga Mi raccomando Iscrivetevi Lasciate like Dopo Goofix Fai un giro anche te Mi raccomando Ecco Fra 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 Questa la vinco O il punto No 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 Vado a mandarla a casa Con tutti insieme Zitto Ragazzi Bella Zitto Bella raga Tutte e due Tutte e due Fulminati Fulminati Tieni questa Dai andiamo a fulminare gli altri Ragazzi Aspetta Frace Scaracca Pomba Nuova Cio Eh ma Danny sta morendo Mentre tu stai trovando lo Scaracca Eh no raga Forte Eee Porco Due Grandi raga Almeno lui è morto Dietro mi ha rubato la kill Perfetto Ah io ti ho rubato la kill Va bene Quanti like siamo raga Vediamo Minchia Se arriviamo a 40 Altre Oh 28 like raga 28 Sì Se arriviamo a 40 like Altre 1200 Vivex Eh raga Ti tocca Simona io sono nato qua a Codogna In provincia di Lodi Minchia Minchia 28 like Grandissime ragazzi 40 like ci siamo quasi eh Ma cosa sto facendo Grande pietro Cioè band qualcosa sto 5 di vita Sì sì Sto sfondando il culo a questi Esatto Ma si vede che mi sto impegnando Certo Poi c'era lo scar Eh no L'hai preso? No Quale scar Quale scar Fuori sta lo scar Che ho usato a uno Niente munizioni Dello scar Vale No Vai Raga continuate a spammare Che a 100 like 100 euro raga Serviamo 100 like 100 euro Mi raccomando Come vedete Whatsapp Instagram Più veloce Grandissimo Altri due Attenti Cazzo Bella Zia Prova Che Ma Che Che Ben Fatimento Dai Costa Quello Stiamo Giocando Bene Se C'era Il capo Lo potevamo fare Comunque Pietro E' un bambino Raga No scherzi Come la stai giocando Di la verità Bene Bene No fra Mi devi lasciare Per il colpo Grande Lollo Adesso che siamo 4 Li vinciamo Ragazzi C'è C'è Lollo Lollo Hai visto la live 8 spettatori 60 commenti 33 like Grandi Vai a vedere Lollo E fai un giro di tutto I colpi Te li ho lasciati In là Oh Ma Dimmi tu Cazzo Te dovresti rischiare La mia vita Per te 37 Hai Una più Colpi Cazzo Da dietro Vabbè Difficilissimo Eh Sono forti Sì Qua Raga Eh Dai Non 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 È Vabbè Spera Non mi do neanche il tempo Di girarmi Cazzo Ma niente Questo Perché mi hai lasciato I colpi La giuca Mamma mia 8 spettatori Raga Grandissimi Raga Appena arriviamo 100 like 100 euro Raga In live E E Ma Che c'è 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 Uscito Aspetta Ho scritto pure il commento 100 iscritti 1200 Vibas Quindi iscrivetevi Raga A me non mi dà Devi aggiornare Devi aggiornare Aggiornate la live A 100 like 100 euro Raga Però io devo staccare Eh Si è scritto un altro Tra 40 minuti Tra 40 minuti Devo staccare Mi raccomando Lasciate like Condividete Perché Deve troppo Di staccare Tra 40 minuti Tra 40 minuti Quindi Perché Ma devo andare A mangiare Troppo Oh Tra due Mi piace Devi dare altri Bucks Sì 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 Spammo con tutti I telefoni Anche te Lollo Fai un giro Fai un giro Lollo Potete essere anche voi Raga Comunque Pietro Lollo E Ricky Simone chiede Pietro Grida Troppo Ok Grida Grida Troppo Te Pietro Ti giuro Te fai andare A piccola Lollo O no Valentino 30 Silenzio Pietro Minchia Adesso lo silenzio Raga No Adesso non parlo Più No Parli troppo Hai detto mille parole In due minuti Sembri Paolo Bonolis Mentre Fa la sfida finale Avanti un altro Porco Due Animali Guarda Ti senti candidati Ragazzi C'è la live di Ciccio Andate tutti a spammare Nella live di Ciccio Raga Sono tutti con voi Raga Mamma mia Raga 38 Light Numeri da paura Vogliamo il Goofix Al posto di Pietro Perfetto Pietro tu esci Entra Goofix Goofix Mi raccomando Fai un giro Anche te Raga Fate un giro Fate un giro Live di Milzo Ecco Smilzo Ciccio Game E fatti Live di Ciccio Raga Mi raccomando Iscrivetevi Iscrivetevi Premete il tasto Iscritto Daniel Live di Smilzo Di Smilzo E Ciccio Game Vai raga Lì fate Il giro Più Assurdo L'ho fatto io Ecco mi rubo Il pompa E muoio No Ecco come morire Appena atterrato Parte 1 Tutorial Vai Danielito Gerogeo Raga Devo andare O dal lollo O da tetto Eh no raga No raga No raga No raga Cosa faccio Raga 9 spettatori Il record di kill A 14 Cerchiamo di superare Il ciccio gamer Wow Wow 39 spettatori Raga Cos'è raga Non ci credo No raga 450 Mille spettatori Raga Cos'è No io non ci sto più nella pelle 250 commenti pure No raga Iscrivetevi Iscrivetevi 111 iscritti No raga 2200 spettatori Cos'è Stiamo facendo Raga Oddio Lollo 2200 Non ci credo Raga Sto malissimo No vai vedere 500 commenti Fra E la madonna 3000 spettatori Non ci credo Raga Non ci credo Lollo Vai vederlo Non ci credo Non ci credo Non ci credo No E la madonna 3000 spettatori Spettatori No raga 441 No raga C'è scritto Ci manda Ciccio Ciccio è un boss Dopo vedo La live di Ciccio Dai raga Dai raga Ci manda Ciccio Bella raga No Mi raccomando Mettete like Condividete sta cazzo Di live Non ci credo Ciccio è un boss Ciccio è un boss Lo stimo Raga 2500 spettatori Mi sento male Triangolo Raga Triangolo Daniel facciamoci un due Fidati Facciamoci un due Doviamo giocare seriamente Fri Triangolo Triangolo Dai Raga Ciccio sto facendo la live Raga Fidati Lo sto scherzando Fidati 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 Enricchies Esci un secondo Raga Mille commenti Raga Ciccio Gamer ha detto E' stato bello Per pochissimo No raga Ciccio è un boss Io ho scommato Nella live di mini Entra Entra No Ciccio Gli manda un bacione Grande Ciccio Grande Ciccio Raga forse un duo Prendiamo noi Un duo No Un due Un attimo Capitati Un un attimo Te lo consiglio Non sto scherzando Te lo consiglio Vabbè raga Io bevando Non ci credo raga Mi raccomando Iscrivetevi Raga Grandissimo Ciccio Ciccio è un boss Mamma mia Ma Ciccio è una bomba Raga Mille settecento commenti Ciao Raga Quattrocento domande Ascritti Non ci credo raga Bella 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 Dopo guardo la live di Ciccio Sentiamo cosa ha detto No raga Devo fare la foto Devo fare lo screen Dai dai raga Adesso supero il record di Ciccio E vediamo se Ciccio Vi manda ancora raga Dai dai raga Adesso supero il record di Ciccio E vediamo se Ciccio Vi manda ancora raga Bella Quanti follower Mamma mia raga Ciccio è una bomba Io Io le cose non le programmo Lo faccio proprio Lo so che se gioca Ma io le cose non le programmo Se voglio fare una cazzata da parte No no Ciccio è un boss Ciccio è un boss 440 like 440 like 812 like raga Aspetta aspetta Una pistola Io un pompa Ok ti posso aiutare No Oh la madonna Straforte sto qua Grazie a voi raga No 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 Sta qui è persa Perché troppi Troppi commenti Troppi spettatori Non ci credo Non ci credo Non ci credo manco io Mamma mia raga Mi devo riprendere Mi devo riprendere Mi devo riprendere raga Cos'ha sto rumore Mamma mia raga Lolo 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 Rientra Rientra fra Minchia Ho mai levato la live Non ci credo Mamma mia raga È un grande Ciccio 854 like E 113 dislike Mamma mia raga Se arriviamo a mille spettatori Giuro a 100 euro Al primo che dice Sono un danielito 2000 commenti Io vado da Ciccio Perché tutti sono tornati Non ci credo No raga no 2000 commenti così Mi sta fermando Sono un danielito Fra Appena ho detto Sono un danielito Tutti che spammano Grandissimi raga Comunque piacere Io mi chiamo Daniel E ho 17 anni raga Spero che Boh Di arrivare a mille iscritti Quanti siamo? 529 E la madora Cioè Raga ma Ciccio Cosa vi ha detto Dai Scrivete raga Ciccio cosa vi ha detto Mi raccomando Ditemelo Perché io Cioè Sono in tendenza Lolo Ti immagini Ti immagini Che i miei compagni Di classe Mi guardano Fra No no Raga Sono un nabbo Ma andate a vedere I video precedenti Raga Mamma mia Raga Non ci credo Grandi 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 Sì ma Ciccio Ciccio è grande Anche se ci prende per il culo Ciccio Boss Andiamo a Borgo Anzi a Pinnacoli A Borgo Lolo A Borgo No sta live Lo lascio sul canale Perché Siamo Minchia Siamo sesti in tendenza Ma cos'è che ha detto Ciccio Ma non lo so Fra Appena sono entrati Cioè Vi si è fermato il cuore Cos'è Un bug Non ci credo Non ci credo Raga Siamo sesti in tendenza Ci dicono E la madora Raga Dai Questa la vinciamo per voi Raga La vinciamo per voi Ma fra Ma sei bassissimo Ma vieni qua Va Sono qua da te fra C'è una cazzo No niente Non mi fa costruire Ce la fai Dai C'è qualcuno qua Eccolo C'è l'hai davanti Gli altri Corri Corri Mamma mia Raga E' qua sopra Ce n'è un altro Qua sopra Eh no Da tutte le parti Porco due Porco due Raga Da tutte le parti Mamma mia Da tutte le parti No No Riccardo No Adesso Non ci credo Raga Ma invitiamo anche gli altri Che gioco bene in squadra Guardate Siamo a livello di 94 Ma a me non mi interessa Basta che ciccio Mamma mia Ciccio è un bomber Fiii Mamma mia Raga Mi hanno scoperto Nel gruppo di classe Mi hanno detto Oh ma fai video su youtube Non ci credo Raga Cioè bastava Cioè bastava 2100 Commedi Io rimango Grandissimi Chi rimane Raga Vi giuro Che non vi ne pentirete Ma dopo vado Vado a vedere ciccio Cosa ho detto Minchia Mille iscritti Raga Uno ci sta spammando Mille iscritti E la vada Andiamo a Borgo Dai questa bene Per questi iscritti qua Che rimangono Grandissimi Raga Certo 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 Raga Se arriviamo 2000 iscritti Cioè Il cuore si ferma Raga Raga Dopo Dopo guardo le live Vedo cosa ho scritto ciccio Dai dai raga Stiamo giocando da ps4 E non da computer Quindi Un po' più difficile Dai raga Dai che questa è la menzana Daniel vieni qua Vieni qua Daniel Arriva A terra Sia ti immagini Che domani Sono in tendenza Sia tutti che Non sono concentrato Sto guardando i commenti Sia 2183 L'ho vista? Come sei di danno Dai raga È uno scherzo No raga Se raggiungiamo 1000 iscritti Per me È davvero tanto Quanto siamo? Che io non ho visto Aspettate un secondo 867 like No raga Ragà Perché è rimasto un grande? Ringraziate ciccio Da parte mia Andate sotto Scrivetegli Grazie ciccio Da parte di Daniel Ito Ragà Tieni Vai 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 Un M4 verde Per te Fra Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Mamma mia Raga Sono esploso Grazie a ciccio Raga Ciccio è un boss Scusate se non mi rispondo Perché a Fiat Ricevere 2300 commenti Quasi No Per me è tantissimo Cioè io appena ho visto 2500 ho detto Cos'è È uno scherzo Sono entrati Arrivare 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 Non deludiamo Questi rimasti Eccolo L'ho visto Aspetta Aspetta Oh Daniel lo faccio Dov'è? Mamma mia Bravo Lollo Ce l'hai colpi media Colpi media Tieni Raga Arriviamo a 1000 iscritti Dai vinciamo in live Per i 40 spettatori rimasti Che grazie a ciccio Mamma mia Ciccio è un bomba Chi si iscrive da me Melodica Ricambio subito Mamma mia Mamma mia Raga Andate a vedere i video Precedenti Se vi piacciono Mi raccomando Iscrivetevi Che a 1000 iscritti Esce uno speciale Lollo Ci sei Dove sei Ma perché Siamo tornando a bordo Andiamo in safe O no Andiamo verso magazzino Bella raga Per chi è rimasto Dai adesso penso al gioco Perché c'è Per me è stato Fia quasi un infarto Ma fra Fia Mi sono visto arrivare 3000 spettatori subito Ma boh Mi gioca bene Almeno rimangono Sopra Sopra Ho visto Adesso arriva Andiamo Andiamo Ragazzi Spammatevi pure Ma che spammatevi pure Guarda c'è scritto Ci stiamo spammando Come i pazzi Dai andiamo qua sopra Uccidiamoli Dai 30 rimasti Almeno una vittoria Guarda Guardatevi Guardatevi Un po' di Fiducia Un uccidio Subito Tanto non andate Vino da cicciogamer Che c'è 30.000 spettatori Che Cioè A lui 100 spettatori Non gli fanno Né caldo Né freddo E' vero Qua ragione Loro sono scesi Mi sa Fra c'è il cuore Che batte Oh Eccolo fra Qua 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 Vieni Corri 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 No raga Chi rimane Cioè Per me E' un grandissimo E' qua Eccolo Eccolo l'ho visto Vi ho tolto il 60 Vieni Vieni Pusciamo Tanto da solo Ah no E' qua C'è il suo MIPA C'è qualcuno qua Fran Non posso aiutarti Non posso aiutarti No mi hanno scettato Mi hanno scettato Mamma mia Parco 2 Raga Raga io No ragazzi No ragazzi Sono andato Del video Di uno youtuber Fate triangolo Raga Lollo No No Mai non gioco Ragio Vabbè Vabbè Le faccio una in singolo Raga Raga No faccio una in singolo Sperando di fare meglio No ci manda ancora ciccio Link hai visto la live Cos'è successo? 2500 spettatori Fra Non sto scherzando Prima Grazie a ciccio Veramente Grazie a ciccio Fra Vai a vedere Grazie a ciccio Gamer Ciccio Gamer Ha detto All'etro del Danielito Non sto scherzando Vai a vedere Fra Non ci credo Cioè io non ci credo Anch'io Cioè mi sono arrivate 40 richieste Sulla play Anche di più Non lo so Ciccio Non so cosa ho detto No no Tu cosa hai detto Ciccio Non ciccio Cosa ho detto Ciccio Cioè io non ho detto Niente Fra Dai questa la voglio Vincere in singolo Si gioco Non lo so Non lo so Sì Anche l'olio Sì Sì Fra No Non è che sono diventato Famoso Semplicemente Ciccio ha detto Andate da Danielito Ho sbagliato Ma non so Perché l'ha detto Forse qualcuno Ha spammato Uno dei nostri Iscritti Oh C'è uno qua C'è uno qua Sopra Aspetta Ma vedi che sembra un po' Che hai in confronto Sì sì Cioè prima dovevi vedere 2500 spettatori Fie se sunt schizzat Fie se sunt schizzat 3000 spettatori Wow Wow Ringraziate Ciccio Ringraziate Ciccio E la madonna Saluto Dex 075 2 Verce Bella raga Posso giocare con voi Chi è Nico Dai raga Entrate Sono livello 80 E cento del passo E bella ragazzi Del canale loro Ah hai visto il canale Cioè raga Posso dire È il bello che un mio amico Mi fa Tu non farei carriera Su youtube Dopo due settimane Arriva il boom Dopo due settimane Arriva il boom Danielito 00 Ah ma state in partita Siamo già in live Ti sto ascoltando tu Sì stiamo ancora in live Abbiamo 900 like Arriviamo a 1000 raga Per favore Ti chiami Daniele 00 Danielito 00 Mi raccomando Iscrivetevi Lasciate like Cioè dopo vado a vedere La live di Ciccio Cosa ha scritto Cosa ha detto Più che altro È tutto attaccato Tutto attaccato No è veramente entrato Ciccio gamer Nella mia live Ragazzi Io non ti trovo Maiuscolo Aspetta Sto giocando Sì mi manca un po' Tra Forse dire Dov'è Dov'è Zitti raga 589 iscritti Sì ecco 580 iscritti Come adesso Grandissimo Wow Bella Questo one shot Ci sta Ma non ho pagato Ciccio Per farvi Spammare Secondo te Ma ti donano No non mi dono Io per adesso Non chiedo donazione Vabbè Venite Ti donerò Ma quanto vita Ha sto qua Raga Io me lo guardo Speciale Speciale Subito Oh Può chiedere se si scrivano Arme danale Buona Buona Raga dai Ho già 4 kg Raga Perché è rimasto Un bacione Un bacione Perché è rimasto 2.484 Commenta Io primo Eh Ragazzi Zitti che non sento i passi Eh Nel video Eh no 7 col pompa Non ci credo 7 col pompa Vabbè raga Entrate 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 Che facciamo Una bella squadra Fia Mi ha spammato Di inviti Raga 100.000 Richieste Fia Avrò su PS4 Mamma mia Entrate Raga Vi aspetto Dai ci sei Eccomi Eccomi C'è Nico Lollo Bella Manchi solo tu Link Ma Manchi solo tu Link C'è Isla Live Mamma mia Bella Bella Raga Ma Alla fine Hai scoperto Cosa ha scritto Ciccio O cosa ha detto No Fia dopo Lo guarda attentamente Davide Davide Traversi Sarà il giorno Più bello C'è una cosa nera Sullo schermo Normale Raga C'è Già da Ciccio C'è 2.400.000 Ma Adesso Ti vengo Insultare Sotto Il tuo canale Ma Perché c'è Una cosa nera Sullo schermo No Raga Baccini a tutti Raga C'è Metti Che mi Spamma Di inviti Raga Raga Scrivete Hashtag Metti Basta Hashtag Metti Hashtag Metti Basta Che mi Sta Spammando Di inviti Raga Adesso Lo blocco Basta Adesso Vai e bloccalo Poi scrivi Stronzo No ma Più che altro Cioè Non me l'aspettavo Da ciccio Tutti i youtuber Che ci sono Da ciccio Non me l'aspettavo Metti Metti Basta Spammare Per favore Che C'avrò Cento inviti Da te No raga Dite hashtag Grazie ciccio Da parte Di Danielite Zero Zero Raga Grazie Grazie dal profondo Del mio cuore Raga 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 dai cerchiamo di vincere una Sì dai raga Adesso mi concentro Basta Raga Vi saluto Il saluto man mano Vi saluto man mano Raga Io so' attirato male Raga io so' morto Dammi il prossimo Davide Dammi Atterra uno Oh ce n'è un altro Ce n'è un altro No E' morto E' morto E' morto Lasciatemi il pompa Lasciatemi il pompa Raga C'è il medic Lasciatemi il pompa Come ti chiami Nico Pazzami il pompa Grande Link Lasciatemi il pompa Sì Raga io prendo una armi Ho tre colpi E' salito sopra Wow Sto shot Mi vado un'arma Raga raggiungiamo Mille iscritti Per favore Chi è che mi vado un'arma Ma non mi interessa Se mi insultano Allora Manu ci scrive Oh zio Da 91 iscritti Sei passato a 60 In una 600 In una botta Sì Devo ringraziarci Mi ha sciottato Ragazzi Un tempo Sì Ma io ho un'arma Quello è il problema Raga 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 Uno l'ha atterrato Cosa è che Una coccitissima Mamma mia Bella Bella raga Dimmi che sta qua Sì non ci credo forse ho sentito una pezza Ho sette colpi Sono messa una lì Sì non ci credo Miracolo Ho un'arma No raga Veramente Fabio Fabio mi vuole Io ho bene Raga Ne ho altre 4 Vai Andiamo Eh no Sti qua son forti Porco due Raga Sti qua erano forti Poi non abbiamo lol Avremo Ragazzi Saluto tutti Peco Pro Gamer Velux Do stanno Sono lì davanti Attento Raga mi raccomando Iscrivetevi Andiamo almeno A mille iscritti No Secondo me Esco in tendenza I miei compagni di classe Sì ragazzi Sponcalla Scontella Cancella Fia Ciccio che scrive Cioè non so cosa detta Minchia 932 like Ragazzi Così di un colpo Grandi raga Mi raccomando Iscrivetevi Si è 122 iscritti Guarda da Una dietro Minchia A Ciccio L'ho pagato 2000 euro Ragazzi Ciccio L'ho pagato 2000 euro Se lo volete sapere Ragazzi Come ce va Blocca Scarsa Ragazzi Raga Scrivetemi Quanti anni avete Fatto un giro Andiamo a corsa Ragazzi Dai dai Carichi Bella mano Bella Matteo Bella Golagar Buona La gente Non manca Mamma mia se c'è gente Raga dai Concentrato Ho un minigana Raga Sopra Attento No no raga Quanta vita aveva Quanta vita aveva Quanta vita aveva Raga Porco Due Raga Bella Perché è rimasto 2666 Commenti Grandissimi Ma Ciccio Quanto puoi essere Scemo Ti stavo sfottendo Però intanto Ti ha portato 600 iscritti Dopo Dopo guarda La live Non lo so Qua dicono così Dopo vado a vedere Bene Alle fondi Saluto Alle fondi Che mi ha chiesto Saluto Bella raga Bella C'è Da otto Da otto Spettatori Che avevo Normalmente Mi sono saliti 2600 Di un colpo O forse 3000 E vedevo il cuore Che si è quasi Fermato Comunque Di aspettatori Nei 47 No ma state Z Ti mi ci direi Le stronzate E' forte E' forte E' forte Perché non c'ho vita Perché è forte Guarda che Nambone Tutti Ah è vero Che Lolo Doveva andare Matchmaking Annullata Facciamo in tre L'ultima partita Raga Poi stock Poi vado a vedere Ciccio Gamer Cosa ha detto Si abbiamo visto I meteoriti Speriamo In un aggiornamento Mettono Una nuova modalità No il meteorite Vogliono farlo cadere O forse Fanno una nuova modalità Ma non lo so Per me la nuova modalità Mettono sapere Il mondo gratis Si adesso Quello che succede Su youtube Ne saprà Di sta cosa Lo mettono Il 30 No il 30 Aprile Ah l'aggiornamento Del nuovo passo 1D Un ca boba Dai ci stiamo Dai ci stiamo Vado il conto a rovescio Da 4 giorni Ci è venuto Nuovo passo Stavo al mondo gratis Speriamo ragazzi Dai l'ultima partita Facciamola bene Per i nostri fan Grazie a Ciccio Grandissimo Ciccio Troppi commenti Raga 2728 Non sono abituato Dai raga Facciamola bene Adesso mi concentro Il gioco Mi raccomando A 1000 iscritti Raga Arriviamo a 1000 iscritti Per me vuol dire Tantissimo Ma per me Ciccio gamer È un grande Cioè Al di là lì Che mi ha sfottuto Adesso vado a vederla live Ma per me rimane È un grande Che tra l'altro Non ho spammato Neanch'io Ve lo giuro Su quello che volete Io stavo giocando Poi ad un tratto Mi sono Cioè 2000 spettatori E passa No raga Gioco su PS4 Comunque Raga dove scendiamo In questa villa Bella Antonio Bella Antonio Oh ma guardate Ma guardate Ho dato il completamento Quanto è il nab C'è qualcuno qua Non mi fa la kill Correte 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 Raga ce la fate Io ho tolto 67 di bomba Arrivo Prova Daniel Spara Spara Eh Non ce la Armi Raga Non ce la Armi No raga Dopo faccio tutto Ora vi saluto Devo andare a mangiare Ritorniamo più tardi Raga Salutatemi Ciccio Adesso facciamo 5 minuti Salutiamo tutti voi Raga Vai Quello che avete da dire Scrivetelo Allora C'è Gamer Che ti ha spammato Un tizio Nella live di Ciccio Allora Quello che succede Su Youtube Ha fatto un video Su di te Danielito Passa pure Tu dal mio canale E se ti fa Giochiamo insieme Bella Domics Grande Matte Uanna Grande Dario Grande Andrea Raga Buono Ora stacco la lag Raga Mi spiace Almeno Ragamo 1000 like E stacco Quanto siamo 992 Raga 1000 like E stacco 925 Io te l'ho messo Bella Manu Bella Manu Bella Alex Bella Pietro Arriviamo a 1000 like E io stacco E io stacco Perché devo andare a mangiare Ci vedremo più tardi 994 Dai raga Say like Mi raccomando 6 pollicioni Su raga Almeno a 1000 Mi piace Bella 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 Allora raga Praticamente Ciccio Avrà detto qualcosa Che io non lo so Quanti È tipo 2800 Spettatori Io pensavo che era una scherza Mi hanno carato il canale Non puoi spingere la video Sì Adesso vado a vedere Ciccio Sposterò una reaction Sposterò una reaction Forse Io sì Perché a me Io mi faccio una partita E poi Ho la soffia Raga Mille mi piace Bella a tutti Guarderò La live di Ciccio Vi dico cosa ne penso Bella Bella Saluto Lorenzo Saluto Alberto Simone Bella raga Finisco questa ma Lorenzo Mi saluti Ti prego Bella Ok adesso Stacco la live Raga Mille mi piace Raga Non ci credo Bella a tutti Raga Raga Ditemi se stacco Adesso Sì o no Scrivete nei commenti Sì o no Saluto Nicolò Cavallo No raga I fan voglio Che rimangano Camaleonte Sì No no Grande Raga Siete i miei primi iscritti Da quando Ciccio Ho detto il mio nome Vabbè raga Ci vediamo più tardi Io devo mangiare Quindi stacco la live Mi raccomando Iscrivetevi E lasciate like Bella raga No 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 Grazie a tutti.